Grazie Presidente, anch'io unisco l'intervento alla dichiarazione di voto, proprio perché essendo del bifo di bilancio, frutto di sentenze passate di giudicato, sono la prima a sapere che sono atti dovuti. Il parere favorevole dei revisori in questo caso non mi è né di aiuto e di documento perché ci sono già postati, è anche quello un atto dovuto, sarebbe stato preoccupante il contrario, un parere non favorevole. Rimane però il fatto che io stessa non conosco perché sono comunque debiti e vengono da contare, ho preso quello della Smile, il cui colpo abbiamo affrontato una transazione, non conoscendo come sono maturati questi debiti, come è maturato l'Iter che ci ha portato a perdere queste cause, anche io sinceramente non me la sento di votarli e quindi è uscito a darla ora. Grazie.